In una cornice da sogno come quella della riviera romagnola, Simona Ventura ha sposato Giovanni Terzi indossando un elegante abito total white, una tuta bianca con scollo quadrato, maniche velate e una cintura decorata con brillantini che si trasformava in una lunga gonna bianca. Questo atteso matrimonio è stato preceduto da un pre-wedding party il 26 giugno, sempre in stile total white. Oggi, sabato 6 luglio, Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono giurati amore eterno con il fatidico i6DS e sono pronti a iniziare un nuovo capitolo della loro storia d'amore. Le prime foto e video sono stati pubblicati sul profilo social di Key Magazine. Durante le promesse, Simona Ventura ha dichiarato, ti amo perché alla famosa cena che ci ha fatto incontrare, le nostre anime si sono riconosciute. Ti amo perché, dal momento in cui sei entrato nella mia vita, mi hai portato fuori dalle sabbie mobili. Ti amo perché non c'è ostacolo che non riusciamo a superare insieme. Ti amo perché, anche se sai che non ho mai letto un tuo libro, non me lo fai pesare. Ti amo perché, come dice il nostro amico Giova, hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. Per questo e per altri milioni di motivi ti amo e oggi ti sposo. Giovanni Terzi ha risposto, in questi sei anni non hai mai smesso di essermi vicino. La tua luce ha illuminato la mia vita e di questo ti sarò sempre grato. Ricordo anche che senza la tua presenza non avrei mai partecipato a Ballando con le stelle. A fianco dei due sposi, come testimoni, c'erano Marco di Terlizzi per Giovanni e la collega e amica Millie Carlucci per Simona. Durante il suo discorso, Millie Carlucci ha detto, carissimi Simona e Giovanni, mi avete fatto un grande onore volendomi come vostra testimone. Io sono una testimone oculare perché ero con loro a Ballando con le stelle quando si sostenevano vicenda e ho assistito alla proposta di matrimonio. Per me è stato uno dei momenti più intensi della mia carriera televisiva. Ho sentito una vibrazione nell'aria quando Giovanni le ha chiesto di sposarlo. Un momento davvero intenso.